Musica Cari amici, una nuova settimana si avvia la conclusione del nostro campus. Nel servizio osserviamo i pulcini dell'infanzia all'opera. In questi mesi stiamo accompagnando i bambini di 3 anni alla scoperta della propria identità. Musica 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 Offrendo loro la possibilità di sperimentare, scoprire e esprimere le proprie potenzialità ed emozioni attraverso l'espressività, il movimento, la stimolazione sensoriale e la rappresentazione grafica. Musica 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 I bambini vengono coinvolti in un graduale percorso di conoscenza del proprio corpo e di consapevolezza della propria identità. Musica 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 Ora vediamo cosa stanno facendo alla primaria. Le classi prime stanno imparando lo stampato minuscolo, prima in gruppo, attraverso il riconoscimento delle lettere sull'alfabetire di classe, poi lavorando in autonomia sul proprio tablet. L'allenamento è proseguito con i giochi interattivi e esercizi sul libro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso viene Carolina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.